Sono Vittorio Livi, presidente della Fiam Italia, siamo specializzati nel produrre mobili in arredamento in cristallo curvato, ma in cristallo in genere. Io credo che questo salone sia un punto di riferimento per dare un certo slancio al mercato. La prima cosa che abbiamo fatto è presentare quattro collezioni di mobili per l'home office e poi abbiamo creato un modulo con il quale si possono realizzare librerie, fianchi di divano, porte televisori. Io credo che non ci siano persone coinvolte in questo settore che possano permettersi di non partecipare a questo salone. Però comunque grazie a tutto questo noi siamo molto contenti. La qualità di questo salone è diventata indiscutibilmente la più importante che esista a livello mondiale.